Ma lui la governa l'Europa? Dramma di Renzi, io sono all'opposizione. In Italia e in Europa posso avanzare delle proposte, dare dei consigli, visto che non decido. Renzi governa l'Italia e i suoi governano l'Europa. Quindi siamo ormai alle comiche. Purtroppo, però, questo è presidente del Consiglio. È incapace, è complice, ma è presidente del Consiglio.